Buongiorno, perdonatemi se non mi sono più fatto vedere nei video, però purtroppo necessità lavorative mi hanno portato ad allontanarmi e a dedicarmi di più al lavoro. Non è che Firenze sia stata la prima e soprattutto l'ultima tappa del mio viaggio. Ci saranno altri viaggi, non lo metto in dubbio, però vi devo dire che ci vorrà un po' di tempo, perché comunque la situazione è quella che è, i soldi sono quelli che sono, viaggiare costa, se non è la pecunia non si può fare nulla. Firenze è stato il mio primo step e speriamo di fare altri viaggi successivi. Vi dico di rimanere aggiornati su questa mia pagina e niente, ragazzi per qualsiasi cosa, questo è un canale del tutto autodidatta che affronterà varie argomentazioni di storiche, a livello storico, in varie lingue. In inglese si direbbe let's get down to work now because we are, this page is talking about the history, the artistic history of Italy and Europe. Firenze was the first step for my personal journey, but this is not the first and the last one. You have to wait because I had a lot of work to do and then I'm looking for a space in the weekend or during the week to do another journey. I don't know where exactly, but maybe it will be, it will be as soon as possible but you have to wait because the journey will cost a lot and I have not much money to do that. So stay tuned on this page, ok? See you, bye bye. Devo fare pure un attimo in inglese, poi avrò pure tempo di farlo in francese e in spagnolo, però almeno giusto per avere un inizio. Signori, see you soon. Ciao, rimanete aggiornati eh. Stay tuned.